Questa storia riguarda i vigili urbani di Pavermo, proprio quelli che il sindaco o il capo dei vigili urbani dipingono come un corpo sano in cui al massimo c'è qualche mela marcia. E' come se non avessero mai avuto peccati, neanche peccati di gola. Ecco, questo pezzo che sta nel libro, Disonerata Società, parla proprio di uno di questi peccati di gola. Uno quando pensa al pizzo, se lo immagina come una fetta di torta. Però se c'aveste un ristorante a Pavermo, potreste pensare che il pizzo possa avere anche la forma di un pranzo completo, dall'antipasto al primo, giù giù fino alla fetta di torta. E questo non significa che gli uomini del racket sono diventati più accomodanti e non vogliono essere pagati cash. Significa che magari il pizzo lo potreste pagare due volte, la prima agli uomini d'onore e la seconda ai vigili urbani che hanno sdisonorato la divisa. Da giugno a ottobre sono ben tre gli episodi documentati dei vigili che prima minacciano i commercianti di false multe e sequestri. E poi, per chiudere un occhio, pretendono sconti, pranzi gratis per amici e parenti, favori, tutto quello che la casa può offrire. Il fatto in solito è che questi galantuomini di vigili urbani sono stati beccati grazie alle denunce dei commercianti e alle intercettazioni. Perché a quanto pare i loro colleghi, quando sono stati interrogati, hanno sempre detto di non sapere nulla. E' che addirittura dietro gli esposti potesse nascondersi un complotto. Se fossimo a Firenze e non a Pavermo, il sindaco tirerebbe fuori un'ordinanza pure contro i vigili urbani, con grande soddisfazione dei lavavetri. Ma qui siamo a Pavermo e anche ai vigili urbani trovati in fallo dovrebbe essere data una seconda opportunità. Se ce ne sono alcuni che proprio hanno voglia di mangiare, la smettano con i pranzi completi e comincino con le fette di torta. Che per quelle sono pochi i ristoratori che denunciano. E in più è difficile che vadano di traverso. Sdisonorata Società nasce appunto dalla rubrica Upizzino, che andava in onda su Radio 24 dal 2007 fino al 2009. E quindi ha origine dall'almensive di Satira Pizzino, fatto proprio in Sicilio e distribuito un po' dappertutto. Qui invece più che altro mi era richiesto dal direttore Sant'Almassi, Giancarlo Sant'Almassi che allora dirigeva la radio, di buttare uno sguardo su questo sud. E ogni tanto essere anche un po' strappico per cercare di capire cosa succedeva al nord in relazione a certi fatti che succedevano qui. E viceversa, l'Italia si sta veramente unendo, però in senso opposto rispetto a quello che si pensava. Non è che da giù si accolgono delle buone pratiche che vengono da altri posti, non importa se del Meridione o del Settentrione d'Italia. Piuttosto succede che al nord si sviluppano certi comportamenti per semplificare eccessivamente quelli che sono i processi di selezione di qualità. Nel senso che si va a chiedere la raccomandazione per un posto di lavoro, si vanno a costruire delle case con cemento depotenziato, si vanno a fare degli appalti, diciamo quantomeno con procedure dubbie. Cioè in realtà il paese si sta meridionalizzando. Oggi vedendo alcune vicende, tipo quelle delle escort, dico ma cosa c'entrano le escort con il sud? A me è venuta da fare una riflessione, che è questa. È successo praticamente che tante delle ragazze coinvolte negli scandali sessuali del premier, da Naomi, Letizia di Casoria, da Ruby, tunisina ma comunque residente a Vittoria in Sicilia, dall'altra, la Nadia Macri, che se non sbaglio è pavermitana. Oggi la richiesta di mano d'opera è calata sempre di più. Anche quando la produzione industriale non cala, la richiesta di mano d'opera invece va giù. Una volta richiedevano forze dell'ordine, carabinieri, preti e così via. Oggi l'unica mano d'opera specializzata che richiamano dal sud è quella con rispetto parlando delle puttane. Allora quando mi dicono che l'Italia è governata male, ha questi governanti perché sono questi gli italiani, c'è qualcosa che non mi torna. Perché poi mi guardo intorno e vedo che in genere all'interno della società civile esistono tantissime persone che nei fatti vorrebbero che le cose andassero diversamente. E ci sono anche tante persone che nei fatti hanno idee per farle funzionare diversamente. Però per una strana alchimia che poi sono le elezioni, succede che la classe dirigente, almeno quella politica, diciamo si autoseleziona sulla base di altri criteri, che non sono certamente quello del bene comune. Ecco, forse per questo. Quali sono questi criteri? Sono quelli della rigenerazione perpetua. Cioè chi sta lì non molla.